buongiorno salam no grazie ma di salami domanzato abbastanza per queste feste è chiaro che diciamo che sono ecco sono ingrassato nel migliore dei modi no comunque la chiamavo perché alcuni insiders mi hanno detto che il suo cammello ha bucato però a breve sarà il nuovo proprietario e volevo sapere insomma che tipo di mercato farete spiazze 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 ma non la capisco ma per fortuna abbiamo un interprete e adesso glielo passo buongiorno buongiorno scrivete voi sapere ai suoi bisogna comprare per l'inter scuola scuola molto importante scuola campionata scuola campionata calma scuola 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 Allora Zizi, che ti ha detto? Cominciamo molto male, spiazze!